Montanari, alla ribalta delle cronache nazionali, c'è finita una scuola elementare presente sul territorio del quadrante nord-ovest di Roma, una scuola che non ha mai aperto e che doveva essere inaugurata nel 2009. Cos'è successo? A chi sono addebitabili di responsabilità per questa mancanza? Quali conseguenze pratiche comporta al territorio questa mancata abertura? Grazie per la visione!